Ciao ciao a tutti e come vedete sono arrivati un sacco di vestitini per wolfie super carini e non vedo l'ora di farveli vedere Allora, questa è la seconda volta che faccio una collaborazione con il sito Banggood e volevo ringraziarvi tantissimo di nuovo e se volete vedere i prodotti che ho scelto, vi dico che ho lasciato qui sotto nell'info box il link dei prodotti e vi lascio qui sotto pure il link per ricevere uno sconto del 10% per i nuovi clienti Va bene ragazzi, adesso incominciamo con il primo vestitino Allora, questo completino è veramente carinissimo, è coccoloso, super morbido con questo burricino la coda, le zampe e poi anche questa faccina carinissima, questa è una tutina di orsacchiotto con questa faccina tenera anche il mio wolf è un orsacchiotto e adesso vediamo un po' come ti sta Ok, adesso andiamo avanti con questo pigiamino e questo pigiamino ragazzi non vi immaginate quanto è bello ed è tipo un pigiamino ti piace molti comunque è un pigiamino davvero carino che sembra proprio per un caniolino per bene, proprio educato un pigiamino massimo e adesso vediamo un po' Ok, adesso vediamo questo maglioncino veramente adorabile e questo si dovrebbe indossare per Natale ma non solo, anche d'inverno in generale Wolfie, basta non si prende e non si mangia è comunque veramente carino mi piace tanto e sembra molto morbidoso e comodo vediamo un po' stai tranquillo Wolfie va bene ragazzi abbiamo tolto di mezzo l'osso abbiamo preso un po' il fazzetto molto più carino e adesso vediamo un po' quest'altro maglioncino super carino azzurro ed è veramente carinissimo e coccoloso spero tanto che gli va e adesso vediamo un po' Wolfie stai tranquillo ok ragazzi adesso è l'ora dell'impermeabilino super carino davvero bellissimo questo impermeabile va bene con quell'altro maglioncino azzurro guardate il cappuccio Wolfie vuole mangiare le etichette ed è veramente carinissimo quando piove allora vediamo ok ragazzi e per completare tutti quei vestiti carinissimi azzurri per l'inverno vediamo un po' queste scartine blu che vanno benissimo con quei completini veramente carinissimi e troppo belli e anche soffici adesso proviamo va bene ragazzi Wolfie non si mangia la bussa vediamo questa zucca super carina aspetta la bussa se no questo lo mangia allora questa zucca è veramente adorabile questo cappuccio con tipo le foglie della zucca che sembra come se avesse una testa di zucca ed è veramente adorabile con questa faccia da zucca ed è tipo il travestimento di una zucca per il mio piccolo Wolfie ed è adorabilissimo e morbido questo l'ho comprato per quest'anno però visto che Halloween è già passato lo conservo per l'anno prossimo così anche tu ti puoi travestire piccolino non si mangiano le cose allora adesso andiamo avanti con questo che è l'ultimo concettino ed è veramente troppo carino perché allora questo qui dovrebbe essere tipo i pantaloncini di Babbo Natale e questo è Babbo Natale con le braccia che mantiene il regalo però se lo vedi davanti Wolfie che cammina con questo cappellino di Babbo Natale tipo sembra come se Babbo Natale stesse camminando con la testa da cane e le zampe pelose da cane quindi sembra tipo una specie di cane Babbo Natale ed è veramente carino e non vedo l'ora di vedere l'effetto va bene ragazzi spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video e questi vestitini veramente sono un amore e anche questo qui di Babbo Natale è davvero carinissimo e vabbè ragazzi Babbo Natale vi saluta ah e ricordatevi che qui sotto vi ho lasciato link dei prodotti che ho scelto dei vestitini veramente adorabili ci vediamo nel prossimo video saluta Babbo Natale ciao ciao